In una lettera scritta in data 31 maggio del 1918 alle sorelle Campanile, due suoi figli spirituali, Padre Pio scrive quanto segue. Ora comprenderai, mia buona figliuola, perché l'anima che ha scelto il divino amore non può rimanere egoista nel cuore di Gesù, ma si sente ardere anche della carità verso i fratelli, che spesso fa spasimare l'anima. Ma come mai può avvenire tutto questo? Figliuola, non è difficile intenderlo, perché non vivendo più l'anima nella propria vita, ma vivendo di Gesù, che vive in lei, deve sentire volere e vivere degli stessi sentimenti. Voleri è vita di chi vive in lei. E tu, mia dilettissima figliuola, sai, benché tardi lo hai preso, sai, dico, da quali sentimenti e da quali voleri era ed ha animato il cuore di questo divino maestro per il Dio e per l'umanità. Spasimi pure la tua anima per il Dio e per i fratelli che non vogliono saperne di Lui, perché c'è il sommo gradimento di Lui. Vivi tranquilla e sia in pace la tua amarezza. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.